Benvenuti in Spazio Notizia, spazio di approfondimento di GRP e oggi conosciamo un nuovo assessore della giunta comunale, l'assessore Roberto Finardi dell'assessore allo sport, benvenuto grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Assessore allo sport, allora stiamo conoscendo mano a mano i nuovi, anche se in realtà è da qualche tempo, ormai da qualche mese che insomma siete a Palazzo Civico e quindi, assessore, qual è il suo percorso personale e professionale? Lei è un atleta? Un ex atleta, mancherei di rispetto a quelli che fanno gli atleti, dicessi oggi che sono atleta, sì, ho avuto un passato da professionista in atletica leggera, ho avuto un passato da professionista come allenatore in diverse discipline sportive, anche in diversi paesi europei. Però lei è nato a Torino? Sono nato a Moncaglieri, anche se ho vissuto parecchio fuori, ho vissuto a Roma, ho vissuto a Parigi, ho vissuto a Novara, ho vissuto a Dasti, questo per motivi ovviamente di lavoro, ma sono torinesi di nascita e vivo a Torino. Quindi una vita dedicata allo sport e a un certo punto hai detto io quasi quasi faccio l'assessore. Ho fatto lo sport perché era l'unica cosa che sapevo fare. Vabbè, ne veniva anche bene visto alcuni risultati. Sì, sì, ho avuto fortuna, ho avuto fortuna. Beh, immagino non solo. E poi com'è andata? E poi ho presentato questo curriculum come tutti gli altri perché mi piaceva questa idea di poter, siccome mi ero sempre molto e lungamente lamentato con un po' con tutti, un po' discussioni da bar se vogliamo, però... Ah, qui le cose non vanno mai bene? No, vedevo dal ministro dello sport all'assessore dello sport e via discorrendo, tutta gente che dicevo ma questo lo sport l'ha visto in televisione forse perché non mi sembra che sappia di che cosa si stia parlando. Il giorno che potevo avere l'occasione la reputo un'opportunità, l'ho reputato un'opportunità quella di mettere quelle che è la mia esperienza, le mie competenze. E quindi lei davvero ha mandato proprio come si dice, diciamo, lei davvero ha mandato il curriculum. Sì, mi sono diverso degli altri, quindi... No, però insomma, ecco, qui ne ha mandato il curriculum, queste sono le mie competenze e poi è chiaro, quindi non l'ha chiamata. Certo, ho avuto una serie di colloqui, mi sono dato disponibile appunto a questo incarico e mi hanno detto guarda, devo dire anche abbastanza velocemente, io sono stato tra i primi presentati nel gruppo degli assessori, anzi il primo gruppo sono stato uno dei primi, sono dato disponibile appunto a questa mania, anche a Ventura, a Ventura non mi piace, come non mi sembra lasciare un po' le cose al caso, cosa capita, capita. Sì, vabbè, questo è impegno, questo è incarico. Esatto, esatto. Quindi poi è diventato assessore. E poi sono diventato assessore. E che cosa ha trovato? Com'è Torino? Dal punto di vista di un assessore allo sport che fino a quel momento aveva fatto sport e non era assessore. Beh, io devo dire che, questo mi sembra anche corretto dirlo rispetto magari ad altri miei colleghi, credo di aver avuto un compito leggermente più facilitato dal mio trascorso, dal mio passato, io questo l'ho detto molte volte, essendo un uomo che ha fatto lo sport di professione da 10 a 50 anni, chiaro che 40 anni, con 5 Olimpiadi all'attivo, 20 campionati del mondo. Sapeva dove andare a parare insomma, no? Alla fine con il comitato lì, invece con le varie federazioni mi sono ritrovato a interloquire con persone che conoscevo di fatto da 40 anni. Però da un altro punto di vista, no? Sì, però poi conoscendo quel tipo di mondo, io credo, poi il giudizio ovviamente non lo devo dare io e non vorrei neanche apparire presuntuoso o presupponente, però credo di aver capito abbastanza velocemente come, non dico come risolvere i problemi, ma perlomeno come interloquire e come organizzare l'attività dell'assessorato, comunque può sembrare banale, ma l'assessorato dello sport comunque ha 760 impianti, tocco occuparsi di attività fisico, sportiva, motore, tempo libero, veramente da 0 a 90 anni. Certo, infatti non si parla solo di Olimpiadi o di grandi eventi, insomma ma magari, quella è la parte forse che dà più visibilità, ma che sostanzialmente magari dal punto di vista del tessuto cittadino è quella che impatta di meno, fare attività a 300 classi, coinvolgere 8 mila bambini in un progetto, quello è molto più complicato, anche perché non è una cosa che qualcun altro ti organizza come un grande evento dove di fatto è più un problema poi magari contrattuale o di gestione di altre cose, qui veramente devi trovare le persone giuste, i tempi giusti, trovare anche molto spesso le risorse economiche e questo è complicato. Quindi cosa ha fatto? So che lei tra l'assessori che forse ha incontrato più realtà, forse pover che già in parte le conosceva pur con un altro ruolo, quindi insomma l'incontro è stato un po' più facile come diceva, però comunque ha dovuto incontrare, hai incontrato molte realtà presenti sul territorio? Sì, non dico tutte perché magari certo qualcuna può però, esatto, non posso anche essermela persa, però di fatto è quello che sto continuando a fare, io credo che dietro un foglio di carta non ci sia poi l'esatto peso, l'esatta consistenza in realtà di chi ti sta comunicando qualcosa, di chi ti sta chiedendo qualcosa, di chi ti vuole segnalare un'esigenza. E quindi adesso che, quindi dopo averlo incontrate, chiedi a se infatti che cosa, quali saranno i suoi passi? Siamo a 700, penso ce ne siano ancora 700.000 da incontrare, non è mai finito perché poi qualcuno è già al terzo giro, ma come è giusto che sia voglio dire. E quali sono i problemi principali che sono emersi? Ma abbiamo, secondo me fondamentalmente è vero che non è che abbiamo un parco di primordine dal punto di vista impiantistico, perché anche se abbiamo un grande numero di impianti, abbiamo un'impiantista che comunque è datata, indicativamente gli impianti nostri sono degli anni 70, se scudiamo magari, che ne so, stadio del nuoto piuttosto che stadio olimpico grande Torino, gli altri sono tutti impianti che hanno 40 anni, quindi necessitano di manutenzione, ordinaria e molto spesso straordinaria, molto spesso l'ordinaria per motivi anche economici non è stata fatta, è diventata straordinaria, quindi credo che buona parte dei problemi stiamo cominciando a risolvere un po' semplicemente, io dico scherzosamente ai miei collaboratori, un po' giocando a te, Teresa, incastrando e cercando di dare, di dare, io vorrei che non rimanesse dietro nessuno e che ciascuno avesse una sua casa, parlo per discipline sportive, gli sport hanno tutti uguale dignità, voglio dire, quindi come dovrebbero avere uguale dignità tutte le società, le associazioni sportive anche, poi va da sé che capire che una certa disciplina abbia un certo numero di tesserati e altri ne abbiano cento volte di meno, ma questo non vuol dire che loro perché sono pochi, non hanno diritto, non posso dirgli e vai a giocare in un'altra città, voglio dire, cerchiamo comunque di essere attenti anche alle esigenze di questo lavoro. E le difficoltà economiche? Le difficoltà economiche ci sono, però io credo che molto spesso la gente, di questo me ne sto anche rendendo conto, molto spesso le persone, le società sportive sono fatte di persone, non è che necessariamente sempre ti chiedono del denaro, molto spesso, proprio in virtù del fatto che incontro molte persone, sono vicino a molte realtà, faccio un po' io scherzosamente dico il genio pontiere, se trovo uno che ha bisogno di una cosa, io conosco quella, magari che quella cosa ce l'ha, ma ha bisogno di un'altra, allora basta metterli in contatto, a volte anche senza grandi somme di denaro, se riesci comunque a fare delle cose. Lei ha sentito curiosità, diciamo, dal punto di vista mediatico intorno alla giunta Appendino, alla giunta Raggi, sicuramente c'è stata una grande attenzione, per ovvi motivi, sono le prime grandi città amministrate dal Movimento 5 Stelle, eccetera, lei ha sentito verso la sua persona, verso il suo nuovo ruolo, una particolare attenzione, un particolare pressing? No, però io ripeto, io in questo credo che sei stato molto più, 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 per virgolette avvantaggiato, fortunato rispetto ad altri miei colleghi che hanno fatto gli assessori, io di fatto sono rimasto nel mondo in cui ero nato e in cui vivevo, chiaro che sono cambiati magari gli interlocutori, ma molti degli interlocutori erano persone che comunque conoscevo da molto tempo, ho continuato a occuparmi di sport come ho sempre fatto. Ecco, siamo già così in chiusura, ma le chiedo quali sono allora i prossimi passi, non nel brevissimo periodo, a parte questo Tetris, c'è qualche progetto che dice a me piacerebbe farlo, vediamo se ce la faccio? Sì, sì, la cosa che più, no più, ci sono molte cose che mi piacerebbe fare, vediamo se ce la faccio, mi piacerebbe per esempio risistemare decorosamente tutte le piscine della città, mi piacerebbe, siamo l'unica città in Italia che non ha un campo da rugby, pur avendo società che giocano la serie A, questa è una cosa che mi sembra strana, mi piacerebbe dare una casa permanente al basket, perché siamo l'unica città in Italia che ha due squadre in serie A, noi e Venezia, una squadra sia maschile che femminile, mi piacerebbe che la pallavola a Torino non solo avesse una casa, ma tornasse a giocare ai livelli che ben conosciamo, che sono quelli della vecchia da Clipan, Custorino, sono tante le cose, queste sono le prime che mi vengono in mente, ecco, sono tante. E ovviamente lei non è Nostradamus e io neanche, ma insomma secondo lei ci sono le condizioni per potercela fare al di là, non è un contratto con gli italiani, però le condizioni ci sono? Ma io credo che sì, ci possano anche essere, ripeto io vengo dallo sport, quando ti presentano 100 bambini che iniziano a fare un'attività, lì in mezzo magari ci sono quattro campioni olimpici, lo scopri se li alleni tutti bene, se non ti impegnano gli alleni e loro non si impegnano, qui credo sia un po' simile. Va bene, allora bene, questo mi sembra il modo migliore per concludere, poi anche il modo migliore per forse l'attività dell'assessore allo sport è più che questa mentalità d'attività non poteva esserci. Bene, grazie allora Roberto Finardi, la tendiamo nuovamente qui in studio per venirci a raccontare allora mano a mano se questi progetti piano piano riescono a prendere campo. Bene, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento.